Romina Power, nuovo grande amore per lei? Le ultime novità sulla donna? Il cuore di Romina Power batterebbe per un nuovo amore? Tanta è la curiosità da parte dei fan che ruota attorno alla sfera sentimentale dell'artista. Tantissima è la curiosità che riguarda la sfera affettiva di Romina Power e sono davvero in molti i fan che vorrebbero avere notizie recenti sulla sua vita sentimentale. La Power ormai da tantissimi anni è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo che è stata particolarmente apprezzata per la sua carriera da cantante insieme all'ex compagno Albano. La loro storia d'amore aveva fatto infazzire il pubblico, e anche dopo la loro separazione nel corso degli anni sono stati tantissimi coloro che hanno sperato in un loro ritorno di fiamma. Romina Power, nuovamente fidanzata? Sempre molto numerosi fan di Romina Power, celebre artista del mondo dello spettacolo, che sono legati a lei e che la seguono sempre anche sui social. La donna è venuta alla ribalta molti anni fa, soprattutto per il suo matrimonio con Albano Carrisi e per la loro coppia che andava oltre quella privata, e si consumava che musicalmente. Insieme i due avevano anche creato una grande famiglia, mettendo al mondo i figli Ilenia, Jari, Christel e Romina Junior. Purtroppo i due vissero anche il dolore della sparizione della loro primogenita Ilenia, di cui di colpo nei primi anni 90 si persero del tutto le tracce e nessuno ebbe più sue notizie. La storia tra Romina e Albano si spense a poco a poco, fino alla decisione di lasciarsi definitivamente. Mentre di Albano abbiamo avuto varie notizie sulla sua situazione sentimentale nel corso degli anni, soprattutto per la sua storia con Loredana Lecciso, di Romina invece si è saputo poco e niente. Per quanto riguarda la situazione amorosa attuale di Romina, pare che qualche tempo fa si è parlato di un avvicinamento sospetto con un uomo. Novella 2000 infatti aveva pubblicato delle foto che la vedevano teneramente vicina ad un misterioso uomo di cui non si conosce l'identità. La donna infatti tiene molto alla sua vita privata, e fa di tutto per mantenerla tale. Corre dunque voce che la Power sia attualmente legata ad una persona, anche se tale rumor al momento rimane soltanto ipotetico poiché non ci sono state dichiarazioni espresse dalla donna in merito.